A testimoniare che il bene si diffonde di per sé, certo, una donazione che ha prodotto un contatto, un contatto che ha allargato i confini del mondo per i bambini, perché tutti noi lavoriamo per loro, i nostri professionisti disponibili ad andare in Iraq, ad andare là e ricevere qui poi i loro colleghi per costruire insieme un percorso di formazione, di formazione on the job, ma anche di poi di gestione a distanza della consulenza, dell'assistenza, per tentare di migliorare i livelli di assistenza nell'ospedale, in questo caso pediatrico, emato-oncologico di Bassora, ma più in generale per contribuire a costruire percorsi di miglioramento di cure e di umanizzazione delle cure che il nostro ospedale intende sviluppare insieme a Deni. Si tratta di un software, appunto per la risonanza magnetica, che serve a effettuare studi della perfusione cerebrale in maniera non invasiva. La perfusione è l'arrivo del sangue al cervello. La perfusione è alterata in numerosi tipi di patologie, anche acute e iperacute, quindi i bambini che arrivano in pronto soccorso con quadri neurologici acuti che devono essere studiati e diciamo che aumenta in maniera fondamentale e critica la quantità di informazioni che noi possiamo avere, quindi la possibilità di studiare precocemente, e di curare precocemente un grande numero di patologie. Di fatto si tratta di estendere la durata dell'esame per solo 3-4 minuti. In questo periodo di tempo si acquisisce informazioni riguardo appunto all'arrivo di sangue al cervello che vengono poi dimostrate in una mappa a colori e si vede se in certe aree del cervello la perfusione è aumentata o diminuita. Questo tipo di informazione, associata anche ai dati dell'esame di risonanza magnetica classica, consentono di avere delle informazioni aggiuntive, come dicevo, critiche per il trattamento di questi bambini. Un segno tangibile di come si possa ogni giorno migliorare un pezzettino del nostro curare i bambini, fare diagnosi e fare terapia. E certamente questo passa anche attraverso la generosità nei gesti concreti. Bene, tutto dimostra davvero che insieme si può fare tanto e meglio.